Elezioni comunali a Marcianise, tanti giovani impegnati, uno di questi è sicuramente Felicia Giuliano, lista Marcianise nel cuore. Esperienza importante con Dario Abbate. In realtà non è la prima esperienza, è un'esperienza anzi la terza di candidatura, però è un'esperienza che ho voluto rifare perché il progetto che Dario Abbate ci ha fatto passare attraverso le sue parole, attraverso la sua persona è un progetto importante, è un progetto in cui crediamo, un progetto che vogliamo portare avanti. Che cosa possono dare i giovani alla città di Marcianise? I giovani possono dare qualsiasi cosa in realtà perché i giovani sono quelli che veramente sentono i problemi della città di Marcianise, non perché gli altri non li abbiano. Marcianise è la città più bella del mondo, non perché sia la città effettivamente più bella del mondo, ma perché è la nostra città, è la città dove siamo nati, è la città dove vogliamo che i nostri figli crescano. E quindi sappiamo che cos'è che vorremmo che loro non debbano vivere, che invece noi stiamo vivendo. Un certo degrado culturale, un certo degrado urbano e questo invece deve essere migliorato. Perché? E soprattutto Marcianise, che è una città capofila nella provincia di Caserta. Marcianise è una città che dagli anni 50 oggi ha creato e passata dall'estero una città prettamente agricola a una città industriale. Ha espresso anche grandi personaggi a livello politico, non può essere abbandonata a se stessa dall'istituzione, assolutamente non si può permettere. E i giovani sono quelli che con la loro forza, le loro innovazioni, le loro idee possono fare qualcosa per cambiarla. Il primo atto di Iuliano, consigliere comunale. Incomincerei a intervenire nel limite delle mie possibilità, perché naturalmente deve essere tutta la coalizione, tutta l'amministrazione che deve lavorare. Però nei limiti delle mie possibilità cercherei di migliorare la vivibilità a Marcianise. Vivibilità nel senso di parchi verdi, possibilità per i bambini di andare a giocare. Una volta si giocava nella Danunze in un campetto sportivo che oggi è abbandonato a se stesso. Cercherei di lottare per avere delle strisce rosa che non sono dei, naturalmente dovremmo iniziare dal bianco, blu e giallo, non perché dobbiamo dare colore a Marcianise, ma perché in realtà sono un sindomo veramente di vivibilità. E inoltre cercherei di fare di tutto per cercare di fare entrare la cultura non solo nelle scuole ma anche nelle case, attraverso una biblioteca comunale più vicina alle persone, anche attraverso dei mezzi che già esistono, non devono essere inventati, cose che si possono fare il giorno prima per il giorno dopo, senza per forza credere alle chimere. Perché in realtà ci vogliono, secondo me, delle cose che possono essere fatte subito. Cose che possono essere dei piccoli passi, ma del resto anche una maradona non si vince senza fare un passo dopo l'altro. Grazie Felicia Giuliano e al prossimo appuntamento. Grazie.